1945 termina la conferenza di Yalta 1979 la Yatollah Khomeini si insedia al potere in Iran 1975 Margaret Thatcher è il nuovo leader conservatore commenta il fatto del giorno Marco Romano vice direttore responsabile del giornale di Sicilia i patti latrenensi e i 90 anni di un matrimonio di interesse